Sindaco, in pratica questo è il primo giorno di lavoro per la nuova giunta, che giornata è? Una giornata come le altre, stamattina ho incontrato i nuovi assessori per scambiare due chiacchiere e per iniziare a lavorare. È chiaro che mi fa molto piacere che anche gli assessori uscenti hanno dato la loro disponibilità a dare una mano, questo è molto positivo. È chiaro che è passato un po' l'insediamento, adesso bisogna pensare a lavorare per quello che è stato il mandato che i cittadini ci hanno voluto assegnare per la seconda volta, questo è importante. Dobbiamo pensare al bene di Teramo e a risolvere i problemi della città. A mente fredda tutto quello che è accaduto nel corso del primo consiglio comunale, come lo giudica? Normale, perché è sempre accaduto, bisogna tenerne conto ovviamente, bisogna tenere conto che c'è qualche situazione che va debitamente considerata, perché comunque le aspirazioni sono tante giustamente. È vero che lei ha detto, ha minacciato durante uno degli incontri avutti durante la votazione, o votate Milton Di Sabatino o vi mando tutti a casa? Io ho detto una cosa diversa, io ho detto che se non c'è una maggioranza che vuole amministrare questa città è inutile andare avanti, il concetto è diverso, non era riferito in particolare alla persona di Milton Di Sabatino, era riferito in particolare al fatto che per amministrare ci vuole una maggioranza. Se io ho una maggioranza al mio fianco io posso amministrare bene questa città, altrimenti diventa difficile, questo è quello che ho detto, ma devo dire che poi la maggioranza mi ha dimostrato di esserci. I cittadini ci hanno consegnato per la seconda volta la vittoria, ci hanno detto che vogliono che noi amministriamo questa città, lo dobbiamo fare bene nella consapevolezza del voto e soprattutto nell'interesse, che è l'interesse pubblico, che è l'interesse comune. Questa mattina ci sarebbe stata la conferenza stampa per la TEAM, rinviata molto probabilmente a domani. L'argomento qual era? Cantagalli resta al suo posto oppure va via? Cantagalli ha già detto che non resta al suo posto perché ha finito il suo mandato e l'ha fatto in maniera egregia. Stamattina c'è l'insediamento del presidente Luciano D'Alfonso che mi ha invitato ed è giusto che il sindaco di Teramo del capologo di provincia vada all'insediamento, ecco perché abbiamo rinviato la conferenza stampa.